Facciamo la Martins Gambo Blues Band È un onore per noi essere qui al Rossano Blues Festival Ringrazio Fabrizio, ringraziamo Fabrizio e tutta l'organizzazione che sono stati gentilissimi con noi Farei anche un applauso al gruppo di prima, Gisus e una torsiglia che sono stati veramente fantastici Mi risentio da pieno, ma per lì, mi vorrei essere stati lì davanti I primi due pezzi, come avete visto, erano fatti con uno strumento un po' particolare Che si chiama Seegar Box È uno dei primi strumenti che gli schiavi nei piantagioni Inventarono un po' per necessità per esprimere la loro musica È veramente la base, la radice del blues Ma adesso partiamo un po' di roba, di quella elettrica Che tratto, ieri sera, siamo stati al... A zonare a Milano e tutti ballavano lì alle crostuare E il prossimo pezzo si chiama Gambo, Gambo, Gambo e tutti E il prossimo pezzo 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 E il prossimo pezzo